Ciao fragoline e ciao fragolini Allora, nuovo video, come leggete dal titolo vi faccio vedere quei 3-4 prodotti che ho comprato e provato sul mangiare per cui, sì, sono pochissimi ma come avevo già detto nell'altro video dove avevo fatto lo stesso video con il mangiare praticamente diverso quando poi sarò nella nuova casa che proverò tante cose, essendo da sola con il mio ragazzo vi potrò far vedere di più di quello che prendo, che mangio e se sono buoni, se le consiglio oppure no invece adesso sono quelle 3-4 cose ad esempio ho dolci e da bere per cui adesso vi faccio vedere, vi spiego in breve se mi sono piaciuti, se mi piacciono, eccetera però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina seguirmi su Instagram lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video che ovviamente nella nuova casa ne farò altri con prodotti che sono di più e un commentino qua sotto se voi avete provato queste cose che adesso vi faccio vedere iniziamo allora vorrei iniziare dal tè che sono queste bustine che vi avevo fatto vedere quando no, quando il mio ragazzo mi ha preso il calendario sono passati due anni ormai quando il mio ragazzo due anni fa mi ha preso il calendario del tè erano 24 bustine di tè questi qua sono francesi perché si chiamano da man freres qualcosa del genere sono tisane e tè ogni bustina ha un gusto diverso ovviamente adesso me ne ricordo tutti i gusti perché giustamente è passato un bel po' io da tanto che le ho tenute diciamo nel sacchetto e poi adesso mi sono ricordata che avevo queste bustine da farvi vedere ne ho altri ma non ho voglia di prenderli adesso ma poi vi farò vedere un altro video anche quelli allora ad esempio questa è la tisana de noel poi c'è questa qua questa qua a manattan poi c'era anche una alla vaniglia questa alla vaniglia era buona è una marca che costa c'era anche questa qua christmas e e ogni bustina si ha il colore diverso perché tipo questa è banana e mertillo banana e mertillo non mi è piaciuta tanto poi c'è sono questa qua granola non mi ricordo che cos'era questo noel paris poi c'è questa qua cacao e amande non so che cos'era questa qua bianca poi c'è goat russ io non sono tanto brava a pronunciare e gli altri due più le altre bustine che ho praticamente certi erano buoni certi non sapevano di niente certi sapevano lo stesso gusto di tutte quelle che ho provato ne ho provate 24 ogni giorno mi facevo tisane e tè calcolate che preferisco di più il tè che le tisane sinceramente non è male sono buone potrei consigliarveli di questa marca qua adesso vi faccio vedere con questa che così si vede meglio e io mi sono trovata bene in senso che sono buone non sono diciamo il massimo però si potrebbe andare bene come come te come tisana secondo me sono buone ovviamente dipende dalla tisana ad esempio questa va tra i 4 e 5 minuti dovete aspettare invece gli altri mi sembra anche allora questa non c'è scritto certi anche sui 15 minuti dipende ovviamente dal tema beh certi non c'erano scritte vabbè comunque comunque è buono non è male come tisana poi ho altre due gustine e altre da provare che sto provando ma ve le farò vedere anche nel vlog queste qui sono delle delle piante dei fiori praticamente a pallina dove voi mettete dentro questa pallina che poi con l'acqua calda si forma in un fiore è un tè mi sembra che una era hanno due gusti diversi ci vogliono 10-15 minuti da aspettare e si forma praticamente questi fiori qua che vedete diversi calcolate che io dopo quando il mio ragazzo me l'ha comprati e l'ho provati sono buonissimi per cui io ve li consiglio questi li prendete su amazon si chiamano erbiluti si scrive così comunque questi li trovate su amazon e anche sono carini da vedere perché appunto sono queste palline piccoline che quando le mettete nell'acqua diventa un fiore e ovviamente sono belli da vedere anche sia da bere che da vedere per cui io ve le consiglio sono buonissimi hanno tutti i gusti diversi sono molto buoni ne proverò altri perché ne rimangono forse tre ancora da provare poi ne comprerò altri vi le farò vedere poi in un vlog poi passiamo all'oreo questi qua sono oreo originali questi sono buoni secondo me sono meglio quando fate il dolce ad esempio la torta così secondo me questi qua sono ottimi e sono buonissimi per fare la torta gli oreo originali sono buonissimi sia mangiarle normali che a fare le torte io ho fatto una volta una torta non mi ricordo se ho fatto il video mi sembra di no non l'ho messo il video che ho fatto l'oreo della torta no si ho fatto la torta di chiara ferragni ho messo l'oreo buonissimi la torta è venuta buonissima ve la consiglio fate anche la torta tra buona poi ho provato queste qua al double crema vuol dire che ha due doppia crema in poche parole queste qua di sempre oreo non sono male però mi convince di più quelli normali che questi qua questi anche se hanno la doppia crema allora costano perché costano se non sbaglio 3 euro solo un pacchetto da 157 grammi per cui come prezzo un po' esagerato però sono buoni non sono male anche questi e per finire vi faccio vedere questi qua oreo banana che non sono alla banana non so perché ho detto banana ma perché forse ho letto sbagliato ma è banadas non banana vabbè proprio una figura di merda comunque questi sono ricoperti di cioccolato bianco all'inizio sembravano sembravano buoni poi quando li ho provati io sono cioè a me piace il cioccolato però quando è troppo forte in senso che si sente troppo dopo un po' non ho voglia più di mangiarlo per cui questi erano 6 pacchetti ovviamente li ho mangiati un pacchetto al giorno per cui erano due biscotti con un pacchetto dentro e l'ho finiti non erano male solo che ho cancellato il video volevo farvele vedere vabbè la prossima volta ve li faccio vedere non mi sono piaciute tanto perché era troppo forte il cioccolato e dato che sono una che piace ma quando è forte forte no preferisco non mangiarlo però non erano male diciamo come biscotti questi qua li ho pagati sui 3-4 euro mi sembra anche questo un po' tantino sono 246 grammi anche questi un po' costosi ma io sinceramente non li comprerei sia per il prezzo che sia per il gusto perché appunto troppo cioccolato poi uno vede se piace tanto il cioccolato lo li prende se sono come me che non amo il cioccolato ma non è che va tanto pazza ad esempio la nutella io non è che la mangio tutti i giorni la mangio una volta al mese ma neanche una volta al mese se poi mi viene voglia di fare le creppe ok prendo metto la nutella e basta ma dopo un po' mi viene la come quasi un po' nausea di dire che palle basta cioccolato più o meno questo per farvi capire niente queste sono state le cose che ho finito so che sono poche so che potevo anche non fare questo video ma dato che volevo farvi vedere quello che ho provato e volevo anche dirvi cosa ne penso potrebbe essere anche un video utile per per quelli che vorrebbero comprarlo e dire però lo compro o non lo compro secondo te sono buono o non lo compro allora poi guardi il video e dici beh a parte che vabbè sono gusti diversi per cui a me potrebbe non piacere e a voi potrebbe piacere quella quei biscotti per cui può cambiare però un consiglio secondo me è anche utile niente fatemi sapere voi se avete provato questi oreo fatemi sapere se avete provato le tisane e il tè che vi ho fatto vedere e niente consigliatemi se volete qualcosa da mangiare qualcosa di novità qualcosa che a voi avete assaggiato era diciamo buono fatemelo sapere qui sotto nei commenti che poi quando li assaggio anche di un vlog così ve le faccio vedere io poi farò questo un altro video di questo genere e vi dirò la mia non lo so detto questo prima che il video dura tanto noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto ciao ciao